Dobbiamo vincere questo referendum perché è il right di lieve, il primo e l'ultimo right di ogni umano. Poi vorrei fare una suggerione. Il ragazzo dell'arico è ancora di grande attenzione, che è di scegliere da la nostra strada. La strada è cambiata nei Stati. Abbiamo chiesto la guerra per l'abortion per questo anniversario e abbiamo fatto molte attività con altre associazioni. ma avete una grande tasca dovete vincere il 25th il referendum e come un di i reprenditori mi ha detto che sono diabatico e non mi dico anche il mio nome Antonio sono sicuro? no Antonio quindi potete fare storia potete dare una lezione al resto dell'Europa al resto del mondo occorre il senso può prevale e poi suggerisco il secondo il referendum che dovete chiedere tutti sapete che avete 210-220 di deputati e senatori sapete che ricevono 66.277 e 93.599 euro per anno e quindi e poi ci sono rilassati fino a 98.634 e poi ci sono rilassati potete immaginare un friend di me in Italia è proprio la stessa quindi vuoi fare storia una seconda ti chiede per un referendum dove i loro salari sono scoperto da noi perché 50.000 60.000 80.000 90.000 potete vivere molto bene meglio di tutti tutti i nostri e che 30.000 40.000 50.000 che sono salvati sono scoperto per supportare famiglie per supportare i nostri per supportare i bambini per supportare i bambini per supportare in difficoltà per supportare i bambini per supportare i bambini per rispondere per la vita siamo tutti come lui e siamo qui perché i nostri i nostri non hanno abortato per la vita per la vita e per la famiglia Grazie.